Bocche cucite in casa PD. Nessuno dei big calabresi, neanche il segretario uscente Ernesto Magorno, parla più di congresso regionale dopo l'enfasi con la quale è stata fissata la data del 23 giugno per le primarie. Data che ormai assai difficilmente sarà rispettata, sia perché la commissione per il congresso, seppur insediata, non ha praticamente svolto nessuna attività, sia perché si aspettano indicazioni da Roma per stabilire il da farsi. L'Assemblea nazionale del PD pare fondamentale in questo senso e se come pare sempre più probabile il congresso nazionale dovesse svolgersi in autunno, davvero le possibilità che la Calabria anticipi il livello nazionale sono prossime allo zero. In questo caso cosa succederebbe? Con Magorno che ha il mandato scaduto, sarebbe necessario individuare un commissario reggente che traghetti il partito verso l'assise, con buona pace dei candidati in campo, anch'essi evaporati nell'ultimo periodo. Dopo il botto iniziale, infatti, si sono perse le tracce dei vari battagli a Naccare, Ambrogio e Gensore. Del resto, agire in autonomia sarebbe parecchio complicato per il partito calabrese, che è spaccato come non mai dopo la batosta elettorale. Estenta anche in Regione, dopo il caos scoppiato con la gestione di Calabria Verde, che continua a tenere banco e alimenta la polemica interna. Guccione continua la sua critica spietata nei confronti del governatore Oliverio e adesso chiede spiegazioni puntuali sulle ragioni per le quali l'informativa su Calabria Verde sia sparita dall'ordine del giorno del Consiglio regionale, che IRTO ha convocato per lunedì 21 maggio. Riccardo Tripepi per la CNews24.